Beh, se dovessi dire che non ce l'ho in testa, insomma, non potrei fare allenatore, ce l'ho in testa dal primo giorno che abbiamo iniziato la preparazione e quando abbiamo allestito la squadra col direttore. Poi chiaramente in questo mese e mezzo ho avuto tante risposte, molte, 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 molte positive, perciò qualche indecisione ce l'ho perché abbiamo una rosa veramente competitiva e chi giocherà saprà che dietro c'è gente che è pronta ad entrare e fare benissimo, perciò ce l'ho ma sono tranquillo e non vedo l'inizio veramente perché poi basta se partite tutto questo periodo senza partite vere, le partite vere sono quelle che contano. Certo, il piano B ce l'abbiamo ma dipende pure dagli avversari che tipo di partite andremo ad affrontare, il calcio è uno sport di situazione, adesso stiamo parlando tutti a bocce ferme, poi basta un qualche cosa che te la cambia e noi siamo pronti, dobbiamo essere bravi a cambiarla in corso d'opera ma questo dipende pure dalla situazione che andremo a trovare. Io non credo mai ai numeri, credo prima di tutto all'approccio alla partita, cattivi, cattivi, dobbiamo correre come loro, essere cattivi come gli altri e poi le qualità tecniche escono fuori. Certamente ci avremo degli accorgimenti tattici nelle due fasi di gioco, rispettare sempre gli avversari perché se vogliamo vincere dobbiamo subito rispettarli, vuol dire essere umili e noi dobbiamo partire da quello che è successo l'altra sera, dove non si vince perché se l'Arezzo era una bella storia e tutto, non arrivi guadagnia in campo la pagnotta e alla fine se ti guadagni la soddisfazione è doppia, non vedo l'ora, non vedo l'ora che arriva domani alle ore 15 perché sono convinto che i ragazzi faranno una grandissima prestazione. Sì, io dico sempre al direttore che lui ha dei jolly, vediamo un po' lunedì, sono convinto che sia un ottimo jolly. Comunque è un over, ecco ci diceva prima. Sì, perché poi alla fine gli over sono sette, ce ne eravano due per ruole, sono quattordici, come giovani siamo messi bene, non abbiamo il duemila però gli altri, io devo dire la verità, in questo mese e mezzo sono cresciuti, sono cresciuti come personalità perché giocare a Arezzo non è come giocare dall'altra parte, giocare a Arezzo e devo dire, spero che domani abbiano ottimi riscontri perché se sono bravi a giocare qui e poi vuol dire che hanno qualcosa dentro, io devo dire la verità, il 2001, il 2002 e anche qualche 2003 non sono per niente male.